Ciao ragazzi, io sono BraceMaker e oggi sono una reale fatta da un mio amico, questa pro sta in compagnia di io ho una femmina, allora io penso che lei sia una fan di Dream, quindi vabbè, sono tutti americani comunque, tutti americani, tutti per un americano sono in difficoltà, istinta, oddio my god, vabbè, continuo, giochiamo e basta mi hanno dato della legna, madonna, baronna, ma quanta, oh madonna, questi sono veramente gentili, grazie al mondo, va bene, se hanno un canale YouTube lo sponsorizzo, altrimenti nulla, allora sono appena entrato perché ieri avevano creato un realm, però poi è scaduto, no, hanno creato un realm, credo, tre giorni prima, tre giorni come credo, mercoledì hanno creato questo realm, poi è scaduto, il realm è scaduto, poi mi hanno limitato il nome di questo nuovo realm, e che può scadere tra due giorni, quindi, oh my god, va bene, voglio vedere tutt'anno, cibo, bene, letti, due, solo per due, questo devi mettere di qua, sì, perché hanno costruito dentro una caverna, mi piace però, allora, i tizi, ma quanto ferro, ma questi sono pazzi, quanto ferro prende la stessa qua, mosca, sono pazzi, pazzi, questi sono pazzi, ma avete, cinque pezzi, prendiamo, lascia, e con questi due mi faccio una spada, l'ho less rebel, ciao bro, oh fig, oh rasputi, che bello chiamare di rasputi, bro, bro, ci sei, ehi, bro, se non mi senti, ti picchio, fin quando non morirai, ci sei, ehi, 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 rasputi, ciao bro, no, questo ferro, lo rispermiamo, vediamo se lo ruba, vediamo se lo ruba, raga, diretta, oh, oddio, è rubato, ok, creiamo un equipaggiamento per lui, allora, per lui, special, scudo, spada, piccone, e ascia, e ascia, aia, siamo pronti? frate, frate, se quello scopre, io, mi ammazzano, fuga, fuga, ho rubato due stacche di ferro, mi dispiace, però mi serviva per dare l'equipaggio, ho detto questo tizio, è povero, allora, visto che sono un builder, professionista, dico così, perché ho costruito tantissime cose, un magazzino gigantesco, nell'altro realm, ehi, sono un builder, builder, si, builder, si dice, si, builder, guarda, il mio inglese è più feo, oh no, ci serve l'ana, ehm, cosa scrivo? no, niente, non voglio scrivere, ci sono due letti, bro, frate, 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 ci sono solo due letti, ci sono solo due letti, frate, frate, adesso, questo è pericolo, siamo normali, dobbiamo prendere l'ana, quindi vado a caccia, madonna, sei potente, no, cazzo, si, si, prendi, minuti, ci sono, lana, ok, due di lana, muoviamoci, questa è la besta sopravvivenza, questa è la sopravvivenza acuta, doveva trovare l'ana, madonna, perché sono venuta qui a fare un cavolo, io, io, adesso, è solo due, diana, e poi si mangio il polo, poi mi avvelena, dai, devo muovirci, madonna, prepariamo, oh, madonna, è l'orda, fuga, fatti il giro tondo, i nozzi, cavolo, no, ci sarà, no, no, non possiamo dormire, e che, ponte, fatto di terra, ma che pericolo, aiuto, oh my god, fuga, fuga, rasputti, dimissionati, minchia, da, tent d car cazzo, questo è un problema, questo è un problema, come hanno fatto a salire, ma fa una scala, oh, così oppure meglio, tato 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 tato, Questi sono preparatissimi Gociamo il C Come and craft bed Io c'ho solo due Io andare a caccia però ho fame Perché lei ne ha chiamato Hi You go to bed Dai cazzo non ci sono altri letti Devo prendere Ok andiamo Allora di cazzo sappi No Lenny need beds No cazzo dobbiamo andare Frase ho preso tutto Ho preso tutte le fecore Non ce ne so più Oddio E mi devo restare vicino alla base Altrimenti mi perdo poi Crippe Aiuti C'è una peccura No I need Abete Ma hanno scelto una zona perfetta Aiuto Questa è per sopravvivenza Ma come fa Come fa Aiuto Aia Ah Dopo concludere il video Però Prendendo Prendendo la lana Non mi ricordo più Dove è la base Di qua credo Dove è la base Raga Aiuto Mi sono perso Che bello Dove è No Di qua No No raga Ecco si si Dai cazzo Ma le pecore Sono andate Minchia Dai dove sono le pecore Le pecore Hanno preso tutte loro Le pecore Ecco perché Non ce ne sono più Dai cazzo Dai che sfiga Poteva entrare prima Niente 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 di niente Bene Fuga Esploso un creeper E' morto qualcuno Via Via Fuga Ma quanta gente c'è In 4 minuti Non c'è Quale nulla Tta Tta Ttta 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 Letty AgnodATE jänod абoli My Ttta Croc Mia mi manca solo una di lana Via 1v1 io contro trim chi prende prima la peccora vince 5 player 3 best questo è 1v1 1v1 l'ha già preso ma che minchia che sfiga aspetta c'avevo assi dai cazzo un attimo dove sono gli schaltri si se la domestico i cani faccio l'obiettivo no dai dove sono le pecore e perchè è proprio di notte madonna il cibo scherzeggia no vuoi aiuta è una fila sembra sembra il caporale che aiuta fuga devo fugare ma dove sono queste maledette pecore poi mi sto allontanando troppo non mi ricordo più le cordillate e quando ho visto se coglioni scheletro trafitto lenni no 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 permette scherzeggia fuga 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 poi morirò visto che non mi ricorda più scherzeggia scherzeggia La pazza, via, via, via No, cazzo Cazzo, no, no No, io non accetto queste cazzate Allora, per oggi ci fermiamo così Spero che il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Cliccate la campanellina Per ricevere tutti i miei video Ci vediamo al prossimo video A tutti i bella ragazzi E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti